E' cominciato tutto per scherzo davanti a un barca a Cassino perché in quel momento non c'erano soldi per l'iscrizione, ho detto faccio l'iscrizione però vado via perché calcio non lo voglio fare, da solo è difficile fare calcio, invece poi mi sono sentito con alcuni amici e abbiamo cominciato a prendere questa squadra, questa società in mano e a farla crescere. Noi il primo anno abbiamo vinto il camminato di promozione, negli altri anni siamo classificati quinti negli altri due anni, in più abbiamo vinto una Coppa Italia regionale e siamo riusciti ad arrivare in semifinale alla Coppa Nazionale di Eccellenza. Quello è stato veramente un bel momento, possiamo definirlo sia brutto perché abbiamo perso la semifinale ma bellissimo perché abbiamo riportato 3.000 persone allo stadio. Adesso con questa vittoria io mi auguro di riportare tanta gente allo stadio. Ho visto l'immagine ieri della vittoria del Cerignola, in piazza c'erano 10.000 persone, era una cosa spettacolare. Io non dico 10.000 persone, mi aspetto, la società si aspetta che il 7 a Cassino in piazza Diaz, il 7 a sera alle ore 20 ci sono tantissime persone perché noi crediamo in questo progetto e però lo vogliamo sposare insieme alla città di Cassino. Il primo giorno sono venuto qua perché io sono cresciuto, abito a pochi metri da questo centro, sono cresciuto in questo centro sportivo e era una cosa indegna. Come potete vedere alle mie spalle era tutto così come era il campo 2 di calcio, erano pietre e sterpalle. Io due anni fa abbiamo costruito sia il campo di calciotto dove si sta allenando adesso la squadra e sia il campo, se riesci a farlo vedere, il campo di calcetto coperto dove i nostri giovani possono, i primi calci possono allenare al coperto. Poi abbiamo anche costruito un centro di ristoro ma già il 2 maggio partiranno i lavori per la costruzione del rifacimento di tutte le recinzioni per chiedere una stare a norma e il rifacimento del manto erboso che faremo un manto erboso sintetico. Quindi toglieremo quelle pietre e quella polvere da questo campo e metteremo un campo sintetico e vorremmo anche costruire una palestra per il recupero sia per fare potenziamento e sia per il recupero dei nostri atleti infortunati. Io purtroppo sono uno di loro quindi sono di parte, sono dei ragazzi eccezionali che incidono la squadra dal primo all'ultimo minuto e la cosa bella è che io vedo la partita insieme a loro a pochi passi da loro quindi non riesco a stare in tribuna centrale.